il 41 è io ho sempre apprezzato il 14 e il 41 perché il 14 è il numero del mio riferimento calcistico diciamo che è Johan Cruyff e il 41 come hai detto è il numero che ho avuto all'esordio e quindi mi piace mantenerlo nella mia carriera e poi oltretutto il 14 è la data di nascita di mia sorella e quindi ci sono vari motivi per cui apprezzo questi numeri e cerco di portarli sempre con me è stato un grande giocatore un grande allenatore un grande dirigente che ha rivoluzionato il mondo del calcio e che è stato un pensatore all'avanguardia per i tempi sì mi sono trovato molto bene beh era una realtà che già conoscevo però non ero ancora andato in tournée quindi è stato molto bello un bel una bella esperienza e credo che mi sono guadagnato la permanenza facendo delle buone prestazioni e quindi sono contento di avere la fiducia della società e del mister e quindi è stata un'esperienza sicuramente importante abbiamo giocato contro squadre importanti anche se prestagione poi è da da tenere in considerazione fino a un certo punto per la per la condizione fisica che c'è sempre da migliorare eccetera però è stata sicuramente un'esperienza molto formativa mi trovo a mio agio in tutte le posizioni del centrocampo diciamo centrocampo a tre ma che il play e a due che è un ruolo un po più ibrido a metà tra i due mi trovo anche in quello benissimo quindi questo sarà al mister deciderlo dove mi vede meglio e le mie caratteristiche sono di qualità balistiche diciamo mi piace battere i piazzati mi piace calciare in porta e una buona resistenza e credo aver imparato nel tempo con le mie esperienze a gestire un po i momenti della gara e sono migliorato soprattutto su quello dove devo migliorare sicuramente un giocatore non è mai imparare quindi cerco ogni giorno negli allenamenti di imparare qualcosa e di migliorare qualcosa che magari è già buono ma che deve essere perfezionato no sono qualità che sicuramente cerco di privilegiare perché per un centrocampista il posizionamento l'orientamento del corpo prima di ricevere e magari la conoscenza del gioco per capire le linee di passaggio sia quando hai la palla che quando sei in fase di non possesso che soprattutto nel gioco moderno è importante fare anche il lavoro di non possesso perché un giocatore deve essere completo in tutte e due le fasi quindi è sì importante la fase di possesso ma altrettanto quella di non possesso dove devi schermare le linee dove devi magari essere posizionato bene perché al giorno d'oggi è importantissimo quindi sono sì caratteristiche che credo quelle che tu hai detto sono fondamentali beh mister grabbi è una delle persone che mi ha aiutato tantissimo in questo percorso perché l'ho avuto 5-6 anni molti anni di allenatore quando ero piccolo e insieme per esempio a Gigi Milani o Antonio Marchio anche allo stesso direttore Giovanni Manna sono persone che mi hanno accompagnato nel mio percorso quindi le ringrazierò sempre e rispetto alle sue domande sì sono sempre molto esigente quando ero piccolissimo lo sono ancora perché la mia passione è questa e quindi cerco di migliorare ogni giorno il senso di appartenenza credo sia una qualità importantissima perché ti fa ti fa tenere stretta la maglia e ti fa capire un po' cosa rappresenti quando vai in campo essendo qua dai pulcini un po' dal 2008 io credo che tutte queste cose le ho imparate col tempo e quindi ho vissuto anche momenti diciamo di svolta per la Juventus tipo l'inaugurazione dello stadio oppure la prima volta a Vinovo la prima volta alla Continassa e il J College diciamo tutte queste tappe che mi hanno accompagnato nel mio percorso e mi hanno fatto crescere sia come atleta come giocatore ma anche come dalla parte umana diciamo e quindi la Juventus in questo mi è stato sempre accanto e la ringrazio certo beh Frankie de Jong oppure Kimmich e beh De Bruyne credo sia il centrocampista più completo di tutti quindi questi tre sicuramente quando vedo per esempio che si allena Paul è una gioia per gli occhi diciamo io l'ho vissuto quando era qua la sua prima esperienza juventina ero piccolissimo faceva raccata a palle ero dietro la porta quando ha fatto il gol col Napoli e quindi poi ritrovarselo in campo e capire la persona che è soprattutto è bellissimo e ammirare poi le sue giocate devo dire che si vede che è proprio di un'altra categoria grazie a tutti